Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato in via definitiva la variante al pit per il potenziamento dell'aeroporto di Firenze attraverso la costruzione di una nuova pista lunga 2000 metri. Il provvedimento è stato approvato con 31 voti favorevoli, 6 contrari e 4 astenuti. Una visione di sviluppo per l'area che prevede anche un parco a verde di 20.000 metri quadrati su cui la maggioranza di centro-sinistra non ha retto. 21 i voti favorevoli del PD e 3 di Toscana civica riformista. Determinanti quindi i voti favorevoli arrivati dall'opposizione Marcheschi di Fratelli d'Italia, Gambetta Vianna e Lazzeri di più Toscana nuovo centro-destra, Carreresi e Del Carlo dell'Udc, nascosti di Forza Italia. Contrari invece Boretti e Mattei del Partito Democratico, Chincarini e Russo del centro-democratico, Romanelli del gruppo misto e Monica Sgherri di rifondazione comunista. Astenuti i consiglieri del nuovo centro-destra e il consigliere Chiurli. Il governatore Rossi che aveva posto l'operazione super etola tra gli obiettivi della legislatura ha dichiarato che non si è trattato di un cedimento della maggioranza ma di un successo dell'aula. Bisognerebbe mettersi a fare un conto molto complicato per vedere se la sinistra ha ancora la maggioranza su questo atto. Io non lo faccio, godo dei tre quarti, lo lascio a chi è innamorato di politologia insomma, non sono innamorato di politologia, faccio politica, il consiglio regionale della Toscana ringrazio perché per tre quarti i consiglieri nella loro autonomia hanno detto che la politica che ho fatto è giusta. L'aeroporto di Peretola avrà dunque la nuova pista parallela convergente di 2000 metri. Bocciati gli emendamenti di Forza Italia in cui si chiedeva di eliminare dall'atto qualsiasi riferimento alla lunghezza della pista, tema su cui resta da vedere quali indicazioni darà Enac. Continueremo a chiedere i 2000 metri, assicurato Rossi.